Strani pensieri durante il rapporto fisico, quali sono i motivi? Allora, se ti è capitato strani pensieri durante il rapporto sessuale con il tuo partner, è arrivato il momento di cercare di capire, ragiona su quello che ti è capitato e se ti sta condizionando, diciamo, il modo in cui hai le relazioni con lui o con lei. Può essere un campanello d'allarme. Quali sono questi strani pensieri? Il rapporto sessuale col partner dovrebbe costruire un momento in cui ci si annulla fondamentalmente. I sensi, se non quelli legati al piacere, dovrebbero azzerarsi. Dovrebbe essere allontanata ogni ansia, ogni angoscia, pensare di dedicarsi al proprio piacere e al piacere del partner. Eppure può capitare che ci siano degli strani pensieri, ragionamenti improvvisi, spiazzanti, durante il proprio rapporto sessuale. Ci possono essere dei pensieri legati a se stessi, a quello che si sta facendo, se è giusto farlo. O altri invece che deconcentrano totalmente dall'atto che stiamo praticando. Perché capita questo? Qual è il problema? Beh, intanto, vabbè, una condizione magari di stress, per cui ci angosciamo, perché ci portiamo a letto, diciamo, anche, diciamo, situazioni che con questa situazione non c'entra assolutamente nulla. Un'altra cosa è che magari invece, mentre siete con uno, pensate a un altro. Questo capita anche molto spesso. In questo caso bisogna un po' preoccuparsi, perché rischiereste di non soddisfare più la persona al vostro fianco e di non soddisfare neanche voi stessi. Oppure persone che stanno con i piedi in due scarpe, ma lo vivono come un senso di colpa. Allora, in questo caso, bisogna cercare di prendere una decisione, perché è il tuo inconscio che ti sta segnando, ti sta mandando un messaggio, che c'è qualcosa che non va, che devi fare ordine con te stessa, con te stesso, per rispetto tuo, ma soprattutto anche per rispetto della tua coscienza e anche dell'altra persona. Questo generalmente può produrre sensi di colpo, situazioni poco gratificanti, poco appaganti. E allora, vedi un attimino, questi pensieri sono un campanello d'allarme nell'ambito della relazione, che forse non è più la relazione giusta per te. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, su YouTube, ovviamente Massimo Tramasco, ma anche su tutti i lati dei miei canali YouTube, Felicità Benessere, Crescita Personale, Amore Autostima, e sul nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco. Ciao a tutti.